Sono Matteo Sormani, il direttore della galleria Augeo Art Space e in questo caso anche curatore di questa mostra che si intitola due strade, la strada di Lola che parte da New York e arriva a Rimini, la strada di Luca che parte da Rimini e va verso il mondo. La mia arte tradizionale perché uso olio su tela o acrilico su carta, un realismo contemporaneo e sto portando avanti due temi, tema che nasce dal mio territorio, io vivendo qui al mare, legato al mare con questi personaggi d'altri tempi ma comunque forse un po' felliniani anche legati alla Rimini di Fellini, in più il discorso un po' più introspettivo mio di donne, il rapporto di coppia, amore, sesso e tutti questi concetti ma comunque poi sono di tutti. C'è un po' più piccola e un po' più piccola e un po' più piccola. Sono interessati a imparare le forze che non possiamo vedere, diciamo che c'è un mondo che è un'attività come questo, che è invisibile, quindi il spirito in il bosco, o anche in di solito, come la pezzatura mi spiegare, quindi poi la pezzatura mi spiegare. La pezzatura mi spiegare, le pezzature mi spiegare, quindi c'è un po' più spiegare e poi poi vedo il bici che si trovi, o altro bambino, o un bambino che mi spiegare, o un bambino o un bambino che si stia con il bambino e un bambino che si trovi. Quindi non so cosa ne vanno a fare prima cosa, ma come la pezzatura. e mi dice cosa dipendere. E tra l'altro Luca è figurativo, mentre di Lola ha questa sua astrazione e questa sua pittura che è anche un po' se vuoi spirituale o appunto di una visione intima che viene fuori nei quadri e bisogna studiarli. Mi ispiro a tutto un immaginario collettivo che abbiamo potuti, che va dai primi del Novecento fino agli anni Cinquanta e Sessanta più che altro. Anche se noi li abbiamo vissuti direttamente, comunque li abbiamo visti in fotografie, giornali, film, perché la filmografia e la cinematografia è importante, ti influenza comunque. Allora a me mi ha influenzato tanto e quindi mi ispiro a questi periodi qua, dai costumi, le pettinature, i vestiti. Pannone! 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 So basically I just try to express what I can't say in words or in music or in a sculpture. Because this is a two-dimensional plane, I'm trying to paint the things that I don't really find also in other people's paintings. It's not conceptual painting, it's not graphic. I love Impressionism and Expressionism. And then there's a kind of metaphysical forms that I see inside objects that I pass and these are all about listening to nature speaking to you. So as I made these in Sicily and it's a rich history where the Greeks, the Romans, the French, the Spaniards, Arab, Africans pass through. The earth actually talks to you, so do the branches and the rocks. So these are all the voices that I was hearing in that setting over the last six months. What is the goal of Augeo? Yes, the goal of Augeo is to have a local and international vision. In the sense of helping the city to grow culturally. And to be helped by people who visit the world. And to be able to bring the world to Rimini. In a place like Augeo where there is a fundamental binomial. Where the modern world is inserted in a historical context. All right, the duration of the show is inaugurated on September 28th and until October 26th. For maybe there will be a new thing that we will tell you in the course of the show. Thank you. upgrades.